Avete mai provato a realizzare un cambiamento impegnandovi con tutti voi stessi e non siete riusciti a farlo? Io mi chiamo Davide e in questo video parleremo di come realizzare invece i cambiamenti. Voglio qualcosa, voglio ottenere qualcosa veramente, perciò studio, mi applico e mi impegno totalmente, mi impegno veramente con tutto me stesso per realizzarlo. Ogni momento del mio tempo lo dedico a questo e non riesco tuttavia a realizzarlo. Un sacco di frustrazione e di conseguenza dopo un po' mollo il mio tentativo, non riesco a cambiare, non riesco a raggiungere quello che voglio e questo mi inibisce a produrre anche degli altri tentativi o tendenzialmente a voler cambiare le cose nella mia vita. Come mai accade questo fallimento? Un cambiamento si realizza per due motivi. Ci sono due grandi strumenti per realizzare un cambiamento e questa cosa la dice Patanjali, perciò io in verità cito, qualche millennio fa. La dice lui riguardante il mondo dello yoga. Lui dice per realizzare lo stato di yoga, per essere in yoga città vritti niradaha, hai due strumenti e uno si chiama abhyasam, uno si chiama vairagyam e questi due strumenti in verità servono a realizzare qualunque tipo di cambiamento, non soltanto quello che mi serve per essere nello stato di yoga. Le due parole che vi ho detto in sanscrito, una significa pratica, nel senso un fare attivo e l'altro significa lasciare andare, abbandono, un senso come non fare attivo. Cosa significa? Significa che quando noi vogliamo realizzare un cambiamento tendenzialmente siamo concentrati sul fare e ci perdiamo di vista, perciò su abhyasam, e ci perdiamo di vista l'altra parte, lasciare andare. Lasciare andare significa, in maniera molto semplice, smettere di fare tutto quello che mi allontana dall'obiettivo che voglio realizzare. Se io voglio andare per una direzione, per ottenere qualcosa, devo impegnarmi al massimo per andare ad ottenerla e, nello stesso momento, ho bisogno di lasciare andare tutte le cose che mi allontanano da questo. Ad esempio, tante volte le persone arrivano qui e dicono io vorrei essere felice, voglio riuscire ad essere felice. Bene, cosa ti rende felice? Allora uno dei primi esercizi che gli do è fare una lista di cose che rendono felice questa persona e scrivono 3, 4, 5, 10 attività che li rendono felici. Bene, cosa ti rende infelice? E poi è semplicemente il fatto di dare tempo a quello che mi rende felice e togliere tempo, non fare quello che mi rende felice. E noi abbiamo una grande difficoltà a fare questa cosa, siamo, se va bene, predisposti a fare ma non a lasciare andare. Perché lasciare andare è la parte essenziale del cambiamento, no? Fateci caso. Io ho delle abitudini che mi rendono infelice e purtroppo queste abitudini possono essere riguardanti il lavoro, possono essere riguardanti le relazioni, che in un qualche modo hanno bisogno di cambiare. Cambiare anche solo vuol dire non per forza devo cambiare lavoro o uscire da una relazione, ma posso aggiustarle queste cose, posso mettere una parte di comprensione maggiore. invece io non voglio lasciare andare quella parte, non voglio lasciare andare l'immagine di me che si ha in un certo ambiente e in questo, col fare questo, col trattenere quell'immagine di me, quella modalità, io non lascio spazio affinché il cambiamento che voglio realizzare si possa realizzare. È una questione veramente alchemica. Se io voglio inserire qualcosa ho bisogno di svuotare. È come quella storia zen, no? Della coppa che stelle, come fai a sapere tutte queste cose, allora il maestro comincia a versare il tè fin tanto che straborda. Bisogna svuotare il bicchiere per riempirlo di acqua nuovamente. Di conseguenza non possiamo solo avere una bellissima bottiglia d'acqua o il miglior vino che volete trovare. Non è sufficiente, serve un bicchiere vuoto. E il bicchiere vuoto significa dovete svuotare la parte di voi che occupa spazio che dovrà invece essere preso dal cambiamento che state realizzando. Questo fa sì che dovete stare attenti a quello che desiderate, perché quello che desiderate vi metterà di fronte alla scelta. Quello che desidero è veramente importante o quello che ho già mi basta? Magari potrebbe non piacermi quello che ho, ma forse allora ha qualche fine secondario nel suo mantenersi. E questa è tutta l'investigazione della pratica di Svadiyaya, del capire perché è così faticoso lasciare andare quegli stili di vita che ci sono nocivi e dannosi. Vi auguro di fare una riflessione su queste cose e di vedere se quando volete realizzare un cambiamento inserite tutti e due gli strumenti, non solo uno, il fare e il non fare, entrambe. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete, i commenti è molto piacevole. Vi ringrazio tutti quanti, buona pratica, ciao!